eh sì buongiorno di nuovo a tutti e dopo questa bella dormitina andremo a vedere cosa ci porta cosa c'è di bello io questi direi di prenderli perché cibo qui ci abbiamo una piscina poi abbiamo di là da qualche lì abbiamo la sabbia e abbiamo anche un ruscello di là quindi direi che potremmo stabilirci qua abbiamo tutto abbiamo la lava alberi un bel piazzale gigante dove nessuno ci potrà disturbare dei mostri direi che andiamo in un punto più alto perché secondo me abbiamo trovato il nostro posto se riusciamo a trovare un punto più alto ok ci siamo abbiamo trovato un punto quasi alto che è un albero e direi che questa zona non è alquanto male se noi andiamo ad aprire la mappa praticamente noi ci troviamo qui e qui vicino c'è questa roba che io non so assolutamente cosa sia che è sempre la stessa cosa di c'era di là comunque sia non è male perché credo che di qua ci sia ancora un fiume e di qua un altro fiume praticamente non siamo riusciti a trovare il mare ma non c'è problema possiamo iniziare già da qui io direi proprio di stabilirci qui voi cosa ne pensate io un pensierino a questo posto ce lo farei ok abbiamo scoperto cos'era questo semplicemente dei buchi nel terreno delle crepe ma dei dungeon questo posto a tanta roba questo posto direi che i un gran bel posto io mi stabilirei proprio qui ci abbiamo tutto ho anche sentito un po di animali quindi in teoria lì ci abbiamo cibo qui ci abbiamo cibo e acqua si si iniziamo a piantare la nostra bandiera ok iniziamo a raccogliere tutto il legno possibile immaginabile possiamo perché dobbiamo incominciare a costruire la nostra baita e non sarà una cosa facile quindi raccogliamo tutto quello che possiamo raccogliere inizieremo a costruire all'inizio la nostra piccola casetta veramente misera e poi ampliarci e costruire il il rocket launcher praticamente la base da dove poter far partire il nostro razzo che sta succedendo? ok quindi facciamoci il nostro bellissimo ascensore di terra e raccogliamo tutto e come tutte le costruzioni abbiamo bisogno di delle idee chiare per come costruire dove costruire cosa fare cosa non fare e tutto il resto e abbiamo anche bisogno ops si è rotta abbiamo anche bisogno di tanta 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 impalcatura ovvero utilizzeremo la terra e per il punto perché sennò non ci arriviamo e soprattutto oh devo costruire una pala grazie ma soprattutto dobbiamo pianeggiare ancora di più questa parte qui vedete? e iniziamo a solcare il nostro terreno mettere la nostra bandiera per poter riuscire a costruire quello che vogliamo costruire un piano pianeggiante appunto perché ho bisogno di costruire tutto sul piano e magari incominciamo a fare uno spiazzo gigante per poterci vivere rilassare ok ci siamo quasi abbiamo già un primo passaggio si dobbiamo tenerci in forma perché abbiamo tanto lavoro da fare oh questa parte qua è l'ultimo pezzettino che ci manca oddio sembrava un creeper quelle quelle perfetto e da questa parte qui noi incomincieremo a costruire la nostra primordiale casa perché all'inizio sarà una baracchetta poi incominciamo a espanderci e vedere un attimo onestamente la galacticraft io non la conosco non l'ho mai fatta non l'ho mai vista ma soprattutto credo che abbiamo bisogno degli automatismi di automatizzare qualcosa quindi se qualcuno di voi ha qualche suggerimento io lo accetto volentieri signori abbiamo trovato il posto alla prossima sì lo so volevate già vedere qualcosa di costruito ma è ancora troppo presto no più che altro che poi si fallunga il gameplay sto qui ore 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 a giocare e vi annoierei credo o forse no minecraft non ha noia non so perché minecraft relax rila relax o relax non lo so so solo che questa canzone è bellissima alla prossima ragazzi come sempre siete mitici bye bye ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti